Ciao a tutti, sono Fabio Silver. Oggi su Fabio Silver News discuteremo la recente minaccia dell'Iran di oscurare i sistemi GPS sopra Tel Aviv, un evento che ha aumentato le tensioni nel Medio Oriente. Analizzeremo le cause, le conseguenze e le reazioni globali. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati, anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali, troverete tutti i link in descrizione, grazie mille. Iran minaccia Israele, un nuovo capitolo di tensione nel Medio Oriente. In una mossa che ha aumentato la tensione nel Medio Oriente, l'Iran ha minacciato Israele ordinando di oscurare i sistemi GPS nel cielo sopra Tel Aviv. Quest'azione rappresenta un'escalation significativa nel conflitto tra i due paesi e ha suscitato preoccupazioni a livello internazionale. L'Iran ha una lunga storia di conflitti con Israele e questa ultima mossa è vista come un tentativo di dimostrare la sua capacità militare e tecnologica. L'oscuramento dei sistemi GPS può avere gravi conseguenze, interferendo con la navigazione aerea e marittima, così come con le operazioni militari. Non è la prima volta che l'Iran è accusato di interferire con i sistemi GPS. Tuttavia, l'ordine di oscurare i sistemi GPS sopra una città così grande e densamente popolata come Tel Aviv rappresenta un aumento significativo della posta in gioco. La comunità internazionale ha reagito con preoccupazione a questa notizia. Molti paesi hanno chiesto all'Iran di astenersi da azioni che possono aumentare la tensione nella regione. Allo stesso tempo, Israele ha dichiarato che prenderà tutte le misure necessarie per proteggere la sua popolazione e la sua sovranità. In conclusione, la minaccia dell'Iran di oscurare i sistemi GPS sopra Tel Aviv rappresenta un nuovo capitolo di tensione nel Medio Oriente. È fondamentale che la comunità internazionale continui a monitorare la situazione e a lavorare per prevenire ulteriori escalation del conflitto. Le tensioni tra Iran e Israele sono complesse e radicate in decenni di conflitti politici, religiosi e territoriali. Ecco alcuni dei motivi chiave per cui l'Iran potrebbe voler attaccare Israele. 1. Rappresaglia per i raid israeliani. Dopo un raid israeliano all'ambasciata di Teheran a Damasco, le forze armate iraniane sono in stato di massima allerta. L'Iran ha dichiarato che la vendetta è inevitabile e che deciderà come e quando effettuare l'operazione di rappresaglia. 2. Mostrare forza militare e tecnologica. L'Iran potrebbe voler dimostrare la sua capacità militare e tecnologica. L'oscuramento dei sistemi GPS è un modo per mostrare queste capacità. 3. Coinvolgere l'Iran in un conflitto diretto. Secondo alcune fonti, l'Iran potrebbe cercare di coinvolgere Israele in un conflitto diretto. Tuttavia, altre fonti suggeriscono che l'Iran potrebbe non essere interessato a un conflitto diretto con Israele, ma piuttosto a utilizzare i suoi proxy nella regione per rispondere a Israele. 4. Risposta alle azioni degli Stati Uniti. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di essere responsabili per i crimini del regime sionista, sostenendo che hanno sostenuto il regime con tutto il loro potere contro la nazione palestinese. È importante notare che la situazione è molto fluida e può cambiare rapidamente. Le informazioni qui presentate sono basate sulle ultime notizie disponibili. La notizia per il momento è solo per il momento termina qui. Se non l'avete ancora fatto questo è il momento giusto per iscriversi al canale, attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video, seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione, lasciate anche un like e un commento ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale, grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata, l'appuntamento è sempre per la prossima notizia.